No è reato da Luca Yeah, Luca dì Mica ma quel motorino figa, c'ha sei anni, e con il cilindro... E lo fa una forza proprio Ma il�� Romano io sono un cilindro Si, non è che lui lo cura è... Luca sì Ma che cazzo fanno? Non passano più? E ecco perchè mette un mese ma non sono i... lo rifanno L'unico motore che lo facciamo, sai qual è? Il busto di liquido, perché avevo avuto male Che figo, ora che in posto video